Una firma remota apposta con modalità CADES assume l'estensione .p7m, che si somma all'estensione del file originario. Per esempio, un documento .txt al termine del processo di firma remota diviene un documento .txt.p7m, che rappresenta una busta informatica che incorpora al suo interno il documento originario. Il certificato del sottoscrittore è un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Un documento sottoscritto digitalmente a piena validità legale. Per iniziare, avvia il software ArubaSign. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti, oppure trascinalo all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare, sono visibili i documenti caricati. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare il file. Una volta caricato il file, dal menu a tendina indicato, seleziona il formato Firma P7M CADES. Se sei in possesso di marche temporali oltre alla firma, puoi apporre al file una marcatura temporale. Ti basta abilitare il checkbox in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato che desideri dall'apposito menu a tendina. Premi sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Vai su Prosegui e firma. Al punto 1, clicca sulla freccia e seleziona Firma remota. Al punto 2, inserisci il nome utente e la password della firma remota. Vai su Prosegui. Nella schermata successiva inserisci il codice OTP generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP USB in base al generatore di OTP che hai acquistato. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzare il codice in chiaro. Premi adesso il pulsante Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato oppure clicca su Chiudi. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.